la manica su stai su bravo bravo vitto 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 si prepara la categoria master 2 maschini 66kb carminaggi Gabriele riuscirò Roberto va bene se lui non sta facendo niente e dai 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 giù giù dai passaci la manica per sinistro passaci la manica adesso vai muoviti muoviti non aspettate che amico puoi chi è lì? peli su lei non fa niente dai 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 chi è lì? dai giù questa stai a terra dai 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 Vai, vai, entra, non aspettate, tirati su e vai, tirati su e vai, una buona madame, sì, vai, va bene, continua così, che lui continua a girare, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.